bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti di video parleremo dell'argomento più caldo delle ultime ore ovvero sia il nuovo set splash squadron che è dedicato ai processori intel e che forse anche tu potresti vincere gratuitamente con una semplice mossa ti faccio vedere come si fa parliamo però anche ovviamente del galactus ieri alle 13 ci abbiamo preso qualcosa è successo si sente e vi spiego un pochettino cosa ci dobbiamo aspettare e ovviamente un bel po di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e del più importante questa immagine appare nelle prime ore della serata di ieri su praticamente il mondo dedicato a fortnite gaming happens with intel get the fortnite splash damage set and access to 10 più apps when you purchase a qualified intel core processor cosa vuol dire vuol dire che se il vostro processore ovunque voi l'abbiate acquistato viene riconosciuto dal sistema del programmino di intel come elegibile automaticamente vi verrà data su fortnite la skin il set di splash squadron quindi skin come state vedendo deltaplano e piccone la domanda che giustamente vi state facendo è come cavolo diamine porca di quella porca faccio per ottenere la skin va bene ragazzi molto semplice numero uno andare in questo link ragazzi software offer punto intel punto com slash bonus quindi ovviamente parliamo di un sito super protetto il sito di intel vi apparirà una schermata scusate finita la voce è finita la voce a sinistra ragazzi troverete il modulo per loggare se avete già un account intel o altrimenti troverete il bottone per registrarvi una volta che vi registrate dovete mettere nome cognome il vostro numero di telefono dire se siete italiani non vi viene chiesta la via non viene chiesto nessun dato importante accettate le condizioni vi arriva una mail con la conferma ovviamente del vostro indirizzo mail ci cliccate sopra automaticamente potete accedere a intel una volta che siete entrati in alto a destra c'è un bottone con scritto redem offer ok redeem offer voi ci cliccate sopra e seguite gli step è molto semplice dovete schiacciare dei bottoni fino a che non vi farà scaricare un'applicazione cina questa applicazione permetterà al software di intel di scannerizzare il vostro processore se il processore è elegibile allora semplicemente loccherete il vostro account di fortnite con intel e potrete scaricare la skin non c'è niente di più semplice ragazzi il mio purtroppo non era elegibile io ci ho provato sono stato sfortunato questi sono alcuni dei processori che potrebbero essere estratti appunto e che sono che soddisfano ovviamente i requisiti quindi sono degli 5 ci sono degli 3 sono degli 7 ci sono poi anche degli i 9 quindi sono davvero tanti io non so sinceramente perché abbiano deciso di fare questa promozione ma una skin gratis diamine non non ce la perdiamo affatto spero che qualcuno di voi sia fortunato che la possa ovviamente riscattare magari scrivetemelo su instagram mandatemi un'immagine se siete riusciti ad ottenerla sono felice di avervi dato anche questa dritta e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un'altra bellissima immagine presente nei file di gioco scoperta nelle ultime ore di ieri quindi sono io alle 11 e un quarto l'ho vista queste immagini ragazzi come vedete è un background di lobby ma è per salva il mondo però è una bella cosa perché abbiamo degli elementi che ci fanno più o meno capire verso dove dobbiamo indirizzarci per la stagione 5 di fortnite che vi ricordo inizierà il 30 novembre quindi non ci sono per adesso ritardi sulla season non credo neanche ce ne saranno una season a tema invernale carica di neve quindi come ci si deve aspettare anche l'anno precedente è successo arriverà la neve molto probabilmente su fortnite magari anche solo per il periodo natalizio ci auguriamo anche che arrivino le winter fest challenge quindi quelle quelle sfide che ci permettevano di ottenere dei premi più o meno carini o addirittura il calendario dell'avvento vi ricordo l'anno scorso la casa del crack shot che ci dava appunto ogni giorno l'apertura di un regalo con tante tante cose vi ricordate il millennium falcon di star wars ad esempio quindi staremo a vedere anche qua quello che ci si aspetta nella season 5 e chiudiamo con l'ultimo argomento di oggi un altro molto importante questa immagine è l'ultima immagine dove si intravede il galactus ieri alle ore 13 è successo qualcosa come vi avevo anticipato nel video news sempre di ieri in game non si è visto che cosa è successo ma da adesso se con un'arma puntate anzi non so se potete più farlo perché se puntavate le coordinate 256 si sentiva questo rumore che è quello del galactus perché dico che non siamo sicuri che possa funzionare ancora perché ho letto che non è più presente il galactus in game è completamente sparito questo vuol dire che ci si dovrà aspettare adesso qualcosa apparirà in mappa qualcuno qualcuno ha detto ieri in live verrà annunciato da silver surfer come succede nei fumetti o non li ho mai letti quindi non lo so ma aspettiamoci in questa settimana con l'arrivo della pace ovviamente qualcosa dedicato al galactus insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio per avere guardato questo video non dimenticate di schiacciare il bottone del like dai raga portiamolo su con l'algoritmo di youtube e a me mi trovate alle 8 in live su twitch con i videogiochi vintage solo per oggi ciao 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 ciao